E' considerato dai suoi pazienti una sorta di moderno sciamano. Marco Ferrara, una laurea di fisioterapia in tasca, ha messo a punto un particolare metodo di cura rivisitando alcune tecniche della medicina tradizionale cinese. L'abbiamo incontrato nel suo studio di Palermo. Il mio metodo viene dalla Cina in realtà. Io ho un po' rivisitato le tecniche tradizionali perché il paziente occidentale ha una soglia del dolore un po' diversa dal paziente cinese medio. Quindi ho un po' addolcito la tecnica. Loro usano dei bastoncini accuminati in metallo o in legno per stimolare i punti dell'agopuntura. Io invece uso o delle punte di gomma, ovvero anche la matita, proprio la matita normalissima, perché uso la grafite che ha un potere particolare sul nostro corpo. Interagisce con i campi elettromagnetici. Questo lo dice l'OMS, non lo dicono i cinesi. I cinesi la grafite non la usano. Però l'OMS ha scoperto l'interazione con la grafite nella capacità del corpo di eliminare le tensioni elettromagnetiche, gli eccessi di energia elettromagnetica. Nello specifico andiamo a stimolare dei punti per dissipare le tensioni parassitarie accumulate dalla mandibola e consentire un uso armonico dei muscoli coinvolti. In questo modo la paziente inizierà a muovere meglio la bocca e quindi eviterà di trasformare la masticazione in un'attività che accumula tensioni che poi si scaricano sul collo, sulle spalle e via discendendo. Serve per ottimizzare tutto un insieme di funzioni muscolari per inibire le tensioni muscolari. Problematiche di tipo meccanico, per cui dolori articolari e soprattutto disfunzioni, quindi le disfunzioni della mandibola, le disfunzioni delle varie articolazioni compromesse da un utilizzo anomalo, da traumi, il ginocchio, la spalla, l'anca. In linea di massima cerco di ripristinare la funzionalità normale fisiologica del paziente. Nasco con una formazione occidentale, sono laureato in fisioterapia, però mi sono avvicinato anche agli studi di medicine alternative, cosiddette, in realtà sono esperienze mediche millenarie come quella appunto della medicina tradizione cinese e lì il meccanismo che si cerca di stimolare è quello appunto dell'autoguarigione, cioè tutti noi dovremmo vivere in armonia con l'ambiente e abbiamo dei sistemi, gli animali li usano, noi li usiamo molto poco, siamo ormai abituati a demandare ad altri o al farmaco il nostro stato di salute, questo è un vero problema. Potremmo cercare di togliere i bastoni fra le ruote, allora le dovute informazioni mirano proprio a questo, a far riscoprire a una persona, anche se si sente bene, in buona salute, la possibilità di sfruttare meglio il proprio corpo, che sia un anziano che si vuole alzare dal letto senza l'aiuto del badante o un atleta che vuole migliorare le proprie performance, poco cambia. Siamo tutti in grado di ottimizzare le nostre capacità di gestione di questo corpo. Il problema del respiro è un problema estetico-culturale, i nostri riferimenti sono sbagliati, sono scorretti, gli attori che da bambini copiamo, le starlette che ci sfilano davanti e che cerchiamo di emulare ci portano a comportarci in maniera assolutamente non naturale e questo poi negli anni si paga. Basta mettersi nelle condizioni di provare un'alternativa d'uso che sia più conveniente, più confortevole e più performante. Levando confusione, perché in realtà noi siamo progettati per respirare bene e poi ci insegna a respirare male letteralmente. Quando dormiamo, se non stiamo sognando, respiriamo finalmente bene. Un soggetto in ansia difficilmente potrà respirare bene, perché il diaframma, che è il principale muscolo respiratorio, viene inibito dalle tensioni emozionali. E' enorme, un cantante impara a cantare meglio, un attore parlerà meglio e poi ci muoveremo meglio, saremo meglio in piedi. Una maggiore ossigenazione significa portare in giro l'antinfiammatorio naturale, che non può arrivare se i muscoli sono costipati e sono contratti. Il respiro meglio è ovviamente tutto quello che ne consegue. Soffrivo di emicrania ed effettivamente noto dei miglioramenti sostanziali. Ero scettico rispetto a questo tipo di approccio. In realtà già dopo la prima seduta di terapia ho notato dei benefici non solo istantanei ma anche duraturi, che mi hanno convinto appieno di questo approccio alla medicina, quindi come di fatto noi consideriamo il nostro corpo. E non solo sono convinto e soddisfatto di questo tipo di trattamento ma anche mi sento di consigliarlo alle altre persone proprio per una sensazione di benessere nuova, mai provata fino ad ora né con medicinali né con altro tipo di terapie. Grazie. Grazie.